Grazie Presidente, siamo molto contenti di questa sessione, siamo contenti che presentando la mozione sull'acquisizione dell'AMLA all'Italia abbiamo suscitato un dibattito importante, una condivisione importante su un tema decisivo, perché guardate il contrasto al riciclaggio è un tema decisivo, prioritario, se si vuole combattere la mafia, se si vogliono combattere le organizzazioni criminali, che sempre di più in questi anni stanno scegliendo di aggredire l'economia legale e stanno scegliendo di farlo proprio riciclando gli ingentissimi proventi delle loro attività illecite. Solo in Italia si parla di 30 miliardi all'anno che vengono riciclati, introdotti nell'economia legale, che condizionano la nostra economia e condizionano la nostra democrazia. Quindi è un tema importante, è un tema importante quello di combattere il riciclaggio, che si può affrontare solo nella dimensione in cui il riciclaggio ormai avviene. I soldi non hanno frontiere. Se c'è qualcuno che si è globalizzato e che ha globalizzato davvero le proprie attività sono le mafie. E quindi il contrasto al riciclaggio va fatto a livello europeo, va fatto a livello internazionale. Vanno messe in rete le energie, vanno messi in rapporto tra loro i diversi livelli di investigazione, ma vanno anche costruite regole comuni per tutte le agenzie finanziarie e controlli comuni per contrastare il riciclaggio. in questo senso la creazione dell'AMLA, dell'autorità europea contro il riciclaggio, è una scelta giusta, è una scelta importante, è una scelta che va nella direzione dovuta. E voglio, l'hanno tornare a sottolineare perché l'Italia deve chiedere la collocazione qui nel nostro paese della sede di AMLA. Perché qui c'è la legislazione migliore per contrastare le mafie e per controllare i circuiti finanziari. Perché qui ci sono le dotazioni migliori dal punto di vista investigativo. qui ci sono le esperienze anche di gestione degli appalti, di attenzione alla provenienza dei fondi e delle diverse aziende più avanzate. Quindi noi non chiediamo la sede dell'autorità perché ci sentiamo un paese più esposto di altri. Non lo siamo. Noi chiediamo la sede perché qui siamo in grado di mettere in campo un know-how positivo per tutto il paese. Questo è il tema che il governo deve utilizzare. Questo è il know-how che il governo deve valorizzare rivendicando, io credo, la giusta assegnazione all'Italia dell'autorità anti riciclaggio. Grazie. La ringrazio per l'intervento, Mirabelli.